torno a trovarci il nostro sexy coach e la mia fashion stylist Mario Ortiz e Giulia Olivetti ma siete meravigliosi questo faschè venite venite riscuote successo questa coppia infazziscono anche sul nostro sito per loro due il nostro sexy coach scusi la sta chiamando la sua fiancée ipotetica ecco non inciucciate subito un attimo entra nel tuo ruolo di fashion stylist raccontaci com'è andata a quei concorrenti questa settimana istruiamo il nostro pubblico bravi devo dire bravi bravi sei bella bonita vabbè qualcuno ha fatto problemi qualcuno si è ribellato bravi stai tranquilli lui ti deve stare qua in mezzo e così guarda che inciucciano guarda qua va a finire male un attimo entra per interrompere Giulia ti prego Giulia ritorna dove sei venuto vai a fare il tuo dovere e ti vieni qua